La notte dell'8 ottobre scorso rapinò il distributore di carburanti ESSO in via l'Europa nel quartiere San Paolo di Bari, area di servizio salita alla ribalta della cronaca cittadina per essere stata colpita sin dall'estate scorsa da numerosi assalti. In serata i carabinieri della compagnia San Paolo hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere messa dalla locale procura della Repubblica a carico di un 21 anni incensurato. La posizione del giovane è al vaglio degli inquirenti anche per altri eventi analoghi perpetrati lo stesso distributore ESSO nonché per altre rapine consumate al distributore ERG che si trova sulla statale 16 sempre nel quartiere San Paolo e sempre con la stessa modalità operativa. Le rapine che hanno colpito il distributore ESSO unico nel quartiere a mantenere il servizio di erogazione per 24 ore al giorno sono state caratterizzate spesso anche dall'utilizzo di armi e connotate da modalità operative tipiche di professionisti organizzati. All'identità del 21enne si risaliti con la visione di decine di filmati di telecamere e di video sorveglianza. L'arrestato, assiduo frequentatore di sale scommesse, la notte dell'8 ottobre scorso fu fermato da una pattuglia dei carabinieri della compagna San Paolo mentre passeggiava per il quartiere già lontano dal distributore colpito nei momenti successivi alla consumazione della rapina. Al momento del controllo si era tra l'altro già cambiato l'abbigliamento e aveva abbandonato l'arma utilizzata per commettere il delitto un taglierino. Le attività di indagine dei carabinieri non si fermano con l'arresto ma proseguono con la finalità di individuare tutti i responsabili coinvolti.